Buongiorno a tutti, ci troviamo a Borgotaro dall'ospedale del paese e abbiamo una rappresentanza del comitato punto nascita di Borgotaro, che questa mattina sono qui perché a minuti arriverà il presidente della regione Boneccini e loro vogliono far sentire la loro voce perché rivolgono il punto nascita a Borgotaro. Dunque, mi dica, lei questa mattina siete qui in rappresentanza di tante mamme, immagino? Purtroppo lavorano e quindi non possono essere presenti, la cosa ha impedito anche di poter prendere delle ferie perché insomma al mattino queste cose sarebbe meglio farlo al di fuori dell'orario di lavoro. Comunque, noi qui siamo per ribadire che il punto nascita di Borgotaro deve essere riaperto, l'hanno riaperto in Veneto, in Friuli e in Trentino e quindi poteva riaprirlo anche Boneccini. Noi riteniamo che il governatore, chiudendo il punto nascita, con il ditino alzato del consigliere regionale del posto abbiano fatto una sciagurata decisione, ingiusta, perché oltre a mettere a rischio la salute e la sicurezza delle mamme hanno tolto anche la speranza di poter continuare a vivere in montagna. Anche perché il problema è abbastanza grave, perché dove vanno queste mamme? Queste mamme devono andare o a Parmo o a Fidenza e ci devono andare purtroppo anche improvvisamente, non possono andarci alla notte con l'elicottero, ma non possono neppure andarci proprio in elicottero. Quindi in evidenze di maltempo, che è ovviamente piuttosto lungo nei nostri territori, le persone di Santa Maria del Taro o di Santa Giustina non possono assolutamente essere lasciate sole in questa situazione. Passi per Borgotaro, che è a 70 km da questi luoghi, da questi ospedali, però per altre realtà attorno assolutamente bisogna intervenire. Senta un po', cosa chiedete al Presidente della Regione? Al Presidente della Regione chiediamo appunto che riapra i punti nascita, ma ormai comunque tardi, perché ci sono le elezioni fra due mesi. Questa cerimonia è una manifestazione di campagna elettorale. avrebbe avuto tutto il tempo, perché le cose che sa adesso le sapeva già un anno fa. Oggi probabilmente cerca di dare anche assicurazioni in questo senso, però i tempi secondo noi sono scaduti per quanto concerne il 26 gennaio prossimo. Quindi noi pensiamo che se avesse voluto fare, avrebbe potuto fare molto prima, le cose che probabilmente promette di fare oggi. Dunque se questo punto nascita non verrà riaperto, voi cosa intendete fare ancora? Beh, sicuramente noi non demordiamo. Cioè, oltre a noi, la realtà di Pavullo, la realtà di Porretta, la realtà di Castelnuovo Monti. Quindi abbiamo una compagine piuttosto agguerrita. Il Ministero dovrà prima o poi darci ragione, perché nelle pieghe delle dichiarazioni ministeriali è sicuramente possibile trovare il modo per aprire i punti nascita di montagna, e segnatamente questo di Borgo Valditaro. Benissimo, allora adesso aspettiamo e voi fate le vostre domande e le vostre richieste al Presidente. Certo, grazie, grazie a voi. Per quale motivo protesta? Noi protestiamo perché sappiamo che la matrice dei problemi che sono nati a Borgo Valditaro ha una sola identità, e cioè la Regione da una parte e Bonaccini dall'altra. Perché la chiusura del punto nascita è stata voluta dalla Regione e anche dai politici locali che hanno come riferimento il PD. In più, l'avvento della Laminam che sta ammorbando l'aria a Borgo Valditaro, e questo lo testimoniano i malesseri manifestati dai cittadini, ha la stessa matrice. Per cui noi protestiamo per la salute e l'ambiente della valle, per le generazioni attuali e quelle future. Grazie a tutti.